Il Comitato Provinciale dell'Unicef di Catanzaro ha celebrato il 28esimo anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Due momenti della giornata, prima l'incontro promosso nella sede dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, poi la partita del cuore tra la squadra degli studenti universitari e quella dei giovani migranti ospiti del centro di Cropani. Nel corso dell'incontro, moderato dalla giornalista Saverio Puccio, è stata evidenziata la condizione in cui vivono milioni di bambini nel mondo, considerato che nel 2016 il numero di decessi di minori è stato pari a 5,6 milioni.